Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio partecipato. Che cos'è il bilancio partecipato? È un percorso estremamente nuovo che mettiamo in campo dopo un'attività lunga di quasi un anno condivisa con diverse forze sia di maggioranza che di opposizione, quindi con un'attività molto ampia del Consiglio Comunale al fine di andare a predisporre un regolamento che individui comunque sia una giuria popolare che cerchi comunque di avere delle adesioni, delle presentazioni dei progetti di lavori, di piccoli lavori pubblici o anche alcune attività nei quartieri da parte della cittadinanza. Metteremo a disposizione nel prossimo bilancio di previsione delle risorse economiche che sarà la Giunta a licenziarne la quantità e poi il Consiglio Comunale in un capitolo nuovo appunto che sarà appunto il capitolo del bilancio partecipato. La cosa importante sarà che comunicheremo in modo puntuale già dai prossimi giorni tutti gli step che sarà possibile leggere anche sul sito del Comune alla pagina specifica del bilancio partecipato. Ci sarà un avviso di una manifestazione pubblica per poter partecipare sia la giuria popolare che sceglie la prima scrematura dei progetti ma anche per presentare proprio i propri progetti. Facciamo un esempio concreto. Un cittadino che vuole realizzare un'opera che cosa deve fare? Si va nella pagina del Comune di Fano nella voce bilancio partecipato c'è una modulistica specifica ci sono una serie di campi da compilare dove comunque si richiede diciamo di inserire le proprie generalità si deve essere cittadini o cittadine del Comune di Fano e poi si spiega diciamo per sommi capi il progetto che si intende portare nel proprio quartiere e come diciamo si intende presentarlo. Il tutto nasce da una mozione presentata tempo fa dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. È una vittoria se vogliamo del nostro gruppo consigliare che portiamo avanti da tanti anni è una di quelle battaglie su cui ci siamo battuti e infatti a marzo del 2022 fu approvata diciamo all'unanimità in consiglio la mozione e con questo percorso che è durato circa un anno e mezzo di commissioni e di incontri anche informali con parte della Giunta e con anche altri consigli comunali poi come presidente della commissione bilancio ecco è un'attività che ho portato avanti appunto come presidente per arrivare appunto a una conclusione. Arriviamo obiettivamente un po' lunghi su questo percorso ma è un percorso che bisognerebbe cercare di non politicizzarlo cioè non dovrebbe avere una connotazione politica il bilancio partecipato è un qualcosa che dovrebbe far avvicinare tutti quei cittadini che oramai sono lontani dalla politica a sentire propria la città e quindi fare proposte capire anche come funziona il bilancio di una città e come vanno portati avanti certi progetti.